Si indaga ancora sulla morte di una giovane donna di origini polacche avvenuta nei giorni scorsi nel progetto case di Sant'Antonio. L'autopsia ha confermato la morte per suicidio, ma la squadra mobile sta continuando ad indagare nell'ambito dei suoi rapporti e delle sue frequentazioni personali per cercare di capire, se possibile, le cause che hanno portato la quarantenne al tragico gesto. Come si ricorderà, ad allarmare gli investigatori era stata la scuola della figlia, non vedendo la madre all'uscita e riprenderla. Poi la drammatica scoperta. La piccola, attualmente affidata ad una comunità, si sta cercando di capire, e ci sono dei contatti in tal senso, se potrà essere affidata in futuro alle zie e le sorelle della mamma scomparsa che sono in Polonia. Il PM Stefano Gallo ha aperto un'inchiesta sulla morte e si lavora anche all'ipotesi di reato di stigazione al suicidio. La donna non ha lasciato biglietti in casa, ma emergerebbe un quadro familiare abbastanza complicato. Avrebbe in passato la giovane denunciato l'ex marito di origini siciliane, ma residente all'Aquila, per cui all'uomo era stato imposto, sembrerebbe, il divieto di afficinamento all'ex moglie. Nella brutta storia che ha coinvolto e smezzato questa giovane famiglia, alcuni imprenditori in tante associazioni dell'Aquila avrebbero già dato la loro disponibilità per contribuire a funerale per aiutare. La giovane faceva lavori saltuari, nonostante questo viveva dignitosamente assieme alla figlia.